Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 18 maggio. Ariete, la noiosa routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più il look, i giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuta a gestire meglio i rapporti e le pubbliche relazioni, ma è bene procedere senza puntare troppo in alto. Viaggi e spostamenti protetti dalle stelle, impegnatevi per coinvolgere una persona che vi interessa. Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Se non potete soddisfare il desiderio di un viaggio, volate almeno sulle ali della fantasia navigando online. Leone, con il transito della luna in gemelli, riuscite a recuperare la serenità interiore e anche un po' del tempo perso. Non esitate a seguire un impulso creativo, cercate di ricontattare un amico che non vedete da tempo e organizzate un incontro. Vergine, questo lunedì è disturbato dalla disarmonia della luna e di Saturno, che può rendervi inquieti e agitati senza che ce ne sia un reale motivo. Nel tempo libero, visto l'umore, meglio optare per l'inoffensiva compagnia di un buon libro. Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile per allargare le vostre conoscenze, ma tenete sotto controllo le spese. Scorpione, si schiarisce l'orizzonte e torna a splendere anche il vostro sorriso. Per recuperare velocemente, pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Non perdete tempo in chiacchiere ed avvicinate chi può aiutarvi a crescere professionalmente. Sagittario, l'opposizione Luna-Saturno fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro, dove rifugiarvi e recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio. Capricorno, focus sul lavoro. Attorno a voi si crea un'atmosfera serena. Parlate poco, ma infondete tranquillità. Oggi poche parole, molti fatti. Buoni guadagni in campo commerciale, ma su una trattativa che va per de' lunghe conviene tenere gli occhi aperti. Acquario, davvero una splendida giornata, con la Luna e Marte in un segno d'aria come il vostro. Occasioni da non perdere e tanto divertimento. Momenti piacevoli in famiglia e con gli amici. Insieme a loro vi sembra che il tempo non sia mai passato. Pesci, dinamica e irrazionale. La Luna in gemelli crea qualche disagio al vostro carattere sensibile e un po' indolente. Reagite con determinazione. Mostrarsi insicuri non giova. Combattete la tendenza ad estragnarvi per fuggire dalle responsabilità. Grazie!